Sono disumane le condizioni in cui versano milioni di migranti e rifugiati. Chi è costretto a lasciare la propria patria è troppo spesso vittima di inganni, violenze e abusi di ogni genere. Dagli stati servono risposte più efficaci per affrontare le sfide poste dai fenomeni migratori. E' quanto ha affermato Papa Francesco incontrando stamani i membri della Commissione Internazionale Cattolica per la Migrazione. Il Signore, ha affermato il Santo Padre, inviò Mosè dal Faraone per convincerlo a liberare il suo popolo. Oggi un altro popolo, formato da milioni di oppressi, attende di essere liberato. Per liberare gli oppressi, gli scartati, gli schiavi di oggi è essenziale promuovere un dialogo aperto, sincero con i governanti. Un dialogo che fa tesoro dell'esperienza vissuta, delle sofferenze e delle aspirazioni del popolo, per richiamare ciascuno alle proprie responsabilità. La sollecitudine pastorale della Chiesa verso i migranti e rifugiati, ha aggiunto il Papa, è una testimonianza che deve spronare il mondo intero. Dobbiamo impegnarci a concluso per assicurare che alle parole seguano impegni concreti nel segno di una responsabilità globale e condivisa.